Porca miseria Anna! Vai! Anche tu sei in trappola con me eh! Sono in trappola con te ma non mi ammazzerai E buongiorno! E buonasera! Buon compleanno brutto imbecille! Grazie! Ma no perché? Adesso appena andremo su Minecraft vedrai che ti ho donato del regalo Davvero? Eh si eh si eh si Allora abbiamo affidato, voi vi ricordate chat? No cosa abbiamo detto sabato? Perché c'era la domenica di mezzo Magari alcuni potrebbero essersi dimenticati Però abbiamo detto che abbiamo preparato Prima di tutto ricordiamo sabato Che c'è stata la picchianza più assurda mai stata Mamma mia ma è stata una battaglia Mezz'ora di spadate abbiamo consumato Chi c'era in chat scriva io c'ero Abbiamo consumato due set di armatura di nederite Per picchiare Alex È stata una guerra che non finiva più Stavamo tutti urlando Tutti urlando per due ore Io ho sudato sette camicie Non finiva più questa battaglia Però è stata molto bella Ma si è conclusa con un niente di fatto Alex non è morto Troppo niente di fatto Però allora io cosa ho fatto? Ho detto a stregato Ho preparato un nuovo piano Che chi c'era in live sa Un nuovo progetto pure E ho detto a stregato di approntarmelo Adesso spostiamo anche gli altri amici Prima di tutto E poi stretto vieni qui Perché ti devo fare il regalo Prima di ogni cosa Facciamo questo regalo a stregato Così ci togliamo via il pensiero Allora ecco qui il tuo regalo È un secchio Mettiti nel buco Però è un secchio pieno Tito nel buco Goditelo A me sembrava un regalo stupendo Stai nel buco Mi spinge via Non vorrei mica che io pensi che non è apprezzato questo regalo No è molto carino Tu mi stai dicendo che come regalo di compleanno Dopo un insulto gli hai fatto un secchio con un pufferfish Ve lo porto a casa Sì ma sai perché Sono già amici Fanno albano insieme Perché? Fanno albano insieme Come fa albano? Comunque questo regalo è punture di bufferfish Punzecchiante Tengono giovane Mantengono giovane la pelle Sempre sempre Però in realtà stre C'è un altro regalo Tadam Eh? Hai visto? Carino Ok Di qua dovresti venire Oh no Pagli le barche Sì Allora Spiegami bene eh Prego Prendi di qua dovresti venire Sì Qua viene Non stai spiegando nulla Vieni qui Eh no Non ti trovo Ok ecco ti qua Allora spiega A parole Prendi questo tunnel Sì Il simpatico Alex Arriverà qui a tutta velocità Quindi si schianterà là E verrà bloccato Che là ci sono anche le ragnatele Ok Poi noi dall'altra parte Vado a vedere Aspetta Vado a vedere l'interno Attenzione che magari scatta qualche leva suprema Ti intrappola No 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 Non c'è tranquillo E poi sono problemi È tutto manuale Allora perché qui c'è dell'uncent debris Perché è molto duro 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 Ok Perché lo sediana non puoi spostarla giustamente Certo Certo Quindi questo qua è il meccanismo di chiusura Come ti avevo chiesto Infatti c'è anche sopra Sì sono le tue leve Però che dobbiamo passare dall'altra parte Vabbè Quindi lui rimarrà bloccato qua dentro I dispenser sono sopra Se i dispenser basteranno Sì sì No guarda che ci sono tantissimi E poi non hai detto di quante pozioni ho fatto Ma lui non ci arriva vero? No No ma anche se ci arriva Cioè non fa in tempo Sono troppe le pozioni Ok Scagano come quando mangi il messicano Ti giuro sono tantissimi Ma che scherzo Ma che razza di paragone è? Zitta No c'è di qua la stradina Ci sono le lucine Ah si va da sotto Eh sì sì di qua C'è la scaletta Mastro trappolire Ok devo salire giusto? Sì 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 E poi ci sono anche cartelli per le leve così Allora io non vorrei che qualcuno di voi Magari si mettesse a sabotare Quindi non entrate voi altri Entro solo io e strecato Aspettiamo fuori Posso fare una domanda? Sì Ma non è che il guardian ci creerà problemi? Non penso Non è apposta per lui Non credo E tanto noi non dobbiamo mai scavare Infatti Allora uno di noi dovrà appostarsi qui Giusto? Per chiudere le porte Esattamente E la leva per chiudere è questa Giusto? Sì sì Prova anche Very good Very good Very good Un piano geniale E poi se vuole pizziarlo Lo fa da qui Mi stai anticipando le cose Io mi ricordo molto bene Che quando avevi l'ultima volta Anticipato le cose Rovinando la suspense Era finita malissimo Ridammi l'axolotto Lo ucciderò davanti a te Allora Non gli chiudere la porta davanti Eh Eh sì sì Aspetta un segnale Aspetti di vederlo Entrare Ok Quando è dentro Chiudi Corro subito e pam Chiude la porta Tick stick 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 Hopla No Ok Chiude le porte Troppo in fretta Ok la prossima volta Sarò un attimino più a passo No lo devo punir Porca porca Di quella porca Ok ma perché poi se ne accorgi È un problema Sale la ragnatele No È molto cattiva questa trappola Non possiamo fallire Lion È proprio Ah Fa malissimo Eh però ti sei rigerato male Ah ecco è morto Ok ti puoi riprendere le cose Torna qui e riprendeteli gli averi Non male Non male Non male Mi piace Allora vado un attimo Alla zigurat Vado a prendere altre pozioni Perché è meglio non rischiare Nel frattempo Io sto pensando Che sarebbe Buono Avere la possibilità Di rallentarlo ulteriormente Quindi possiamo mettere E in che modo Eh gli buttiamo una pozione di slowness Magari Così è ancora più immobile Non può muoversi proprio C'è l'aistre una Eh la devo fare Ok Allora praticamente Noi adesso Andiamo qua e gli rubiamo Tutte le armature In modo tale che la prossima battaglia Quando lo attacchiamo Non si potrà di nuovo Rifornire di armature Di robe per combatterci Mi raccomando Mettiti le armature E levati le litre Che non si sa mai Grazie Regole per Della casa Per i miei schiavetti Questa era roba della rapitrice Non toccare nulla O ti uccido Fai solo quello che ti dico io Avevamo trovato La stanza delle armature qui Ok Però non c'era quasi nulla Qui ovviamente ci sono dei passaggi Perché non è mica possibile Che sia solo questa roba Eh ma scusami Aspetta 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 Ma hai notato su cosa poggiano? Dei blocchi d'oro Non sono blocchi Cosa sono? Sono delle pedane È vero Quindi voi dite che se le togliamo Si sblocca qualcosa? Eh potrebbe essere Puoi andare sopra l'armatura tu? Aspetta Non so come funzionano Forse bisogna smontarle tutte? Ma a me non pare A me non pare ragazzi Prova a smontarle tutte Non vorrei che fosse una cosa decorativa questa Proviamone una Vediamo se ci abbiamo indovinato No Non c'è niente Non c'è niente? Niente? Questa cosa mi È stranissimo Aspettate che metto via un po' di roba Che tanto questa è spazzatura Altre idee? Qualche idea migliore? Eh no no Ma hai guardato bene tutte le stanze? Allora ho guardato da una parte Qui dietro Non c'è niente neanche qui No ragazzi non Ma è da qualche parte Prova questa qui al centro Te ne rimane una Eh Ecco c'era il barbatrucco allora Eh ma ma non fa più Ma non è che bisogna stare su tutte quante? Andate sull'altra un po' Cold vai sull'altra Io sto qui Oh io ho sentito un bugugugugum L'ho sentito anch'io Comunque abbiamo trovato Venite Oh eh infatti Ecco da dove le prende Ecco dov'erano Questa è roba buona eh Preziosa Ma vuoi che trasferisco anche le cose dell'altra Shulker? Cosa c'è nell'altra? Le Wither Rose? Wither Wither Star Wither Rose E anche un'armatura di netherite E porta via dai Portiamo via anche questo Ah sì prendiamo tutto Le cose che non ci stanno nella Shulker Me le imbosco nell'inventario? Penso che ci stia tutto nella Shulker Ah posso che Eri desideroso di imboscare eh Eh sì sì molto Quando vedo le cose di Ale Non ti preoccupare Sei un fido Un fido alleato Quindi Queste armature se ne hai bisogno Sono anche per te Allora Abbiamo una offerta comunque Siccome ormai Se è fatta una certa E non ho più intenzione di attaccare Un'offerta di pace? Né più o meno Ti volevo offrire di fare insieme un viaggio nel mondo nuovo Visto che abbiamo aggiornato Minecraft Ma che sicuro finalmente Ma poi non abbiamo fatto quasi nulla Abbiamo preso solo gli Axolotl A che bisogna andare a vedere? Ci sono le capre C'è la metista Un sacco di cose Ci sono gli squid luminosi Che ci servono per i cartelli Io voglio una capra immediatamente Una capra reale E poi farò polpette reale No 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 Nooo Vuole una capra reale Se vuole una capra per magnarsela Sì sì Comunque mi sei proprio mancato Guarda durante questo tempo Che non c'eri guarda Guarda quanto son bello C'ho pure la corocina Quasi che guarda Mi fa proprio un magone Dov'è Alex? Tutto il tempo che dicevamo Dov'è Alex? Dov'è Alex? Dobbiamo andare ad attaccare Immagino anche la chat mi chiedeva Sì un continuo Ascolta andiamo con l'elitra All'inizio del ponte Ok Arriviamo Bola Conto tu sei già andato verso il Nuovo Mondolo? Sì 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 ma Ci sono anch'io verso il Nuovo Mondolo Eccomi Tutto della norma Ok Ecco il ponte Sì sì Allora dunque dunque Fermati un secondo Alex Nautz Dunque dunque Allora Dunque Allora siccome che Io comunque Cioè armistizio va bene Però non è che esageriamo Allora magari Facciamo il viaggio separati Bisogna di sicurezza Così nessuno Sì ovviamente separati Io voglio stare con una delle guardie Cioè non è che vengo in barca con te Capito? No infatti cioè Io e Lion siamo in barca insieme Cioè anche perché Potrebbe benissimo succedere Che tu mi cerchi di uccidere O io cerco di uccidere Esatto esatto Quindi andrò con Quindi sicuramente Staremo separati Ah sì Ti puoi dire di me Anna vieni Andiamo Andiamo così Sì 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 No no tu prendi la barca No dobbiamo andare in barca Eh scusa Il re che va senza il suo cavallo Senza il suo trovo Non c'è la barca Fai la barca Eh fatevi una barca Andiamo fare l'emba Fate in fretta pure Cioè veramente Fate una barca Ci mettiamo 30 secondi Comunque questi sudditi Che ti sei scelto Che la fa una barca Un po' penosi eh Un po' penosi eh Un po' efficienti proprio Un po' penosi Sì sì Devo dire la verità Non mi punisca per favore Dai ci stiamo sbrigando Alex Non puoi punirci eh Ok Dai che ci fate notte Qua ci sprendiamo tutti la roba Che vero c'ha ragione Fate la barca Vi voglio una capra Fate la barca Andala vedi Siamo efficientissimi Vai tenga tenga È arrivato prima Strecato Un drogo stregato Bravo stregato No no ma è stata Dai no Guida tu stre Non c'ho voglia io Vai andiamo Comunque secondo me Dovresti andare in barca da solo Io ti dico questa cosa Eh però I sudditi mani insieme Perché Scusa Ti fai portata uno schiavo Vai in macchina con uno schiavo Ho occupato un po' spazio Ma va Ma vai da solo Sono dietro di lei Stia tranquillo No Stare vicini È tipo la scorta Con la macchina È certo Così si fa Ci siamo già presi una crapa Guardi dietro Sono qui Oh ok Eh Aiuto Aiuto No 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 Oh Alex Che è successo Qua ci muori infame Qua ci muori infame Qua ci muori Sì Qua ci muori Qua tu ci muori No 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 Non muoio io Qua ci muori Non puoi aiutarla È bloccato No porca miseria Ammazzatelo No no Alex Qua ci muori Qua ci muori No 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 Non è giusto Lions è morta Ho visto Anna Ho visto Alex Non è possibile Stiamo arrivando Alex Stiamo arrivando Bravo Sto provando Non posso rompere Ragazzi ma non Non possiamo rompere Alex Non è morto Non è possibile Non è possibile Mi stanno finite pure le pozioni No io non ci posso credere Riempi 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 Con tutto quello che hai Ma il piccone Non funziona Non funziona Ma non ci posso credere Non ci posso credere Non ci muore Ma come è possibile Ma come è possibile Che l'unica persona Che c'è morta So io No io non ci posso credere Come è possibile Che non è morto Non avete pensato Al mio inventario Cosa avevi nell'inventario Ma se grita Ho una pozione Del Tartormaster Che ti dà l'esistenza 4 Ma le pozioni erano troppo poche Mannaggia maledizione Non è possibile Non ho idea Ma è pensato male di nuovo Però fatemi uscire Le prenditi le cose Ci metto un attimo No io non ti farò uscire Io non ho intenzione Di farti uscire Già mai Non stiamo provando Ma c'è tutto bloccato C'è il guardia Alex Non possiamo aprire Ma io dico Ma non è possibile Ma porca miseria Sto scavando È veramente immortale Quante pozioni Ti sono arrivate addosso Quante Rispondi idiota Quante Quante Tantissime Però all'inizio Devo dire la verità Stavo morrendo Vorrei vedere Non ci siete riusciti Apritemi Dai è inutile Che rimango qua Devo aprire qua No No Rimani lì dentro Rimani lì Che almeno L'abbiamo intrappolato Cavolo Come è possibile Che non è morto Come ti sei salvato Cos'hai fatto Ma c'erano tantissime Meno P Non puoi uscire da lì Ok Non possiamo fare niente Non possiamo fare niente Non mi stiamo sottolineando Non puoi uscire Possiamo trattare A questo punto Tu sei in trappola Noi non ti possiamo uccidere Possiamo trattare Ti arrendi No Ovviamente Me lo immaginavo Non ti arrenderesti mai Perfetto Allora rimaniamo così Prima o poi Qualcuno arriverà ad aiutarmi Sicuramente la rapitrice Aia smettila Chi arriverà ad aiutarti Lei Immagini lei Voglio vedere io Se ci arriva Peccato Peccato A quanto pare non sta venendo Aia aia E sei qui Arriveranno gli aiuti Prima o poi Alex Quella piccola armatura Cadrà E non ci sarà più E poi Ma peccato Che io me lo so portare un'altra Perché sapevo Che se sarebbe successo qualcosa Anche sopra No 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 La fame sopra No No Sì c'è scappare No siamo maestà Sopra questa corra Fuga è la grande fuga Della maestà Sopra la carità Stai qui stai Infame Mi servono altre cose Per chiudere Stiamo cercando di scappare Anna Chiudi sopra Chiudi sopra Chiudi sopra Dove dove Quale punto Dove sono Dove erano le pozioni Dove erano le pozioni Chiudi sopra Non lo so dov'è Sopra Vai Porca miseria Anna Vai Anche tu sei in trappola con me Sono in trappola con te Ma non mi ammazzerai Sei sicuro di questa cosa Che hai appena detto Sono convinto di avere Più mele d'oro di te Alex sei sigillato Non possiamo arrivare Fate qualcosa Anna chiudi Chiudi Ma non so dov'è Che devo andare Ma porca miseria Anna chiudi sopra Veloce Sbrigati Ci sto provando Ci sto andando Dove erano le pozioni Eravamo insieme Dove erano le pozioni Eravamo insieme Prima Anna Veloce chiudi È chiuso È chiuso Non verrà niente Oh mio dio Anna Però dopo facciamo i conti Perché ti spiumo Questo non è sopra Questo è di lato Tonto Ma sei sopra Anna Per favore No Alex Sei solamente confusa Sei solamente confusa Abbiamo risolto Alex resisti Alex dai Dai che stiamo arrivando Non potete andare avanti A lungo però Io tanto Anche io Anche io Poi sta a vincere a lei Va bene Non me dovreste ritirarvi Non avete chance Mi ritiro Dobbiamo ritirarci Mi concedo La libertà Se mi fai liberare anche a me Per oggi rimaniamo In questa situazione di stallo Non mi piace questa situazione A me Se Se Tu Ti impegni A non uscire Quando siamo Flying dalla live Va bene Non lo faccio Solo rispetto per i Parola di Boy Scout Si parola di Boy Scout Però solo per rispetto Della chat Non è per te E grazie ancora a tutti Buonanotte E Lion Out